L'importante l'abbiamo approfondito, Bignasca, anche lei uno sguardo al 4 marzo, certo quel giorno lì farà festa Allora, il vero problema del 4 marzo è, ma il nostro ufficio contribuzioni sotto la guida di Laura Sadis si mette a posto, fa in maniera che le tassazioni vengono evade in tempi brevi o dovremo fare la caccia al tesoro come abbiamo fatto io negli ultimi 15 giorni trovando 40 milioni perché 2 per 10 fa 20, più 8 più 7 fanno 35 milioni, allora due casi 35 milioni e dato che secondo alcuni di quei casi lì non sono isolati e ce ne saranno abbastanza quest'anno noi stavamo su alla Medellia, abbiamo fatto delle riunioni per risparmiare 50 milioni Signori, non dobbiamo fare così, noi dobbiamo avere, l'ufficio delle tassazioni non ha tassatori avanti, prenda due uffici e cerchi di mettere 5 o 6 tassatori e poi un'altra cosa Ceschi, tu mandi la tua tassazione all'ufficio delle tassazioni loro dopo un mese, secondo la tua tassazione, ti devono mandare i soldi che devi pagare tu, il comune ti manderà i suoi e le comune devono i suoi dopo potranno sempre venire a controllare, però le tassazioni avanti non devono fermarsi lì a vedere se c'è sotto qualche cosa penso che ci sono stati tassatori che sono andati su nell'ufficio del Norman Gobby dell'Ide, che è un ufficio che faceva 500 mila franchi di cifra d'affari all'anno e sono andati su in tre, tre giorni, ma quando ci facevano tre tassatori in tre giorni in una ditta che fa 500 mila franchi di cifra d'affari? Ma scusate, pento che i tassatori devono essere aumentati e pento che noi cittadini dobbiamo mandare le tasse e tu tassatore dopo un mese mi mandi, cosa devo pagare per il cantone, cosa devo pagare per il comune cosa devo pagare per la confederazione, non ti fidi, non ti fidi, non hai detto che perché io ti ho pagato e tu mi hai mandato la... va bene, puoi sempre nei passi di cinque anni puoi sempre venire a controllare, cambiamo sistema altrimenti i tesoretti aumenteranno sempre di più e ci mettono tutti in difficoltà per fare i prevedimenti Giuliano Vignasca, abbiamo iniziato la sala dicendo la Lega contro tutti alla fine serata tutti contro Vignasca, non è un po' paradossale che adesso che voi avete la maggioranza dell'attività non si deve preoccupare, tutti gli organi di informazioni, le raggi, i siti online contro, resisto, resisto ancora, penso che si potrebbe dire, non vorrei far incazzare un po' i frontalieri, ma i sindacati, penso che abbiamo anche un margine di inalzare le tasse sui frontalieri e abbassare quelle dei ticineri, questa è la prima cosa e poi ricordatevi che in canton ticino ci sono 120.000 single, si dice single, che pagano molto più tasse dei coniugati e che negli ultimi anni abbiamo sempre bastonato a me mi servono solamente quelle lì per vincere questa elezione, non è che ci vogliono poi tante cose e poi vedremo in certe città come a Lugano cosa succederà e poi vedremo in certe città come a Lugano cosa succederà